dai fabio allora siamo entrati ora nel bosco, quattro d'ora un altro funghettino vai là guardalo tac nascosto vai, togli un po di fogliettini, bello nascosto, bello, ammappate, bello guardalo lì, è tutto nuovo, grande è duro, è di nascita, bello sotto, si copre, eccolo qua, guarda che bello, ammazza, vedi, irriconoscibile, cioè si riconosce tutto come, fabio allora, cosa c'è? ma zio insomma diciamo che è la giornata riproduttiva, c'è il sole, i faggi ci sono, la compagnia pure, pure i porcellini sotto le foglie, ammappa, guarda che cappelletto, guardalo, 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 mamma, guarda qui, no, no, guarda che gambo, mamma, proprio, ha un gambo favorito, davvero, bisogna far piano, le vetti, quelli vengono subito, vai, guarda che bello, mamma, è bellissimo, ragazzi, stupendo, un bacetto grazie 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 grazie